Bella ragazzi prima del video mi raccomando non dimenticate di fare un salto nel link in descrizione quello di instant gaming ragazzi dove troverete un sacco di videogiochi a prezzi davvero scontatissimi mi raccomando primo link in descrizione instant gaming wey bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi oggi dovete mettervi comodi comodi perché c'ho da parlarvi di una teoria veramente incredibile e non è solo una teoria è davvero quello che potrebbe succedere nelle prossime settimane ormai ragazzi lo sapete il countdown è iniziato e quindi io voglio spiegarvi un bel po di cose vi ricordo che siamo sempre con gli amici di fortnite italy gruppo telegram dove troverete un sacco di informazioni c'è il link in descrizione e nel video di oggi ragazzi parleremo appunto di quello che sta per succedere lo vedremo in una maniera incredibile ragazzi con delle immagini che non immaginate neanche parleremo anche se avremo tempo del nuovo consumabile scoperto nei file di gioco e ovviamente non mancheranno una bella carrellata di leaks che vi permetteranno appunto di rimanere sempre aggiornati con tutto quello che succede su fortnite vi ricordo quindi ragazzi di lasciare un bel pollicione in su di iscrivervi tutti al canale e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live ma prima ragazzi è la domanda non posso non farvela ragazzi è una roba che voglio sapere i vostri commenti mi raccomando qui sotto che sono importantissimi e la domanda è semplicissima chi sceglieresti tra le due due skin ragazzi davvero molto molto rare su fortnite le conosciamo entrambe se dovete se volete sapere la mia io scelgo la renegade raider è davvero molto molto più bella voglio sapere invece quale sarebbe quella che scegliereste voi parliamo subito allora ragazzi ci buttiamo dentro con quello che succederà nei prossimi giorni allora ci tiriamo su le maniche il re del fuoco sarà la skin segreta della stagione numero 7 questa ragazzi è subito sban una sberla in faccia che vi voglio tirare per un sacco di motivi chi è innanzitutto perché stai parlando di re del fuoco vi spiego vi faccio vedere la mia teoria ragazzi il re del fuoco non è la mia la teoria piano non voglio prendermi delle dei meriti che non sono miei però è la teoria sicuramente più veritiera il re del fuoco fu intrappolato dal re dei ghiacci quindi la skin che abbiamo visto la skin finale per impedirgli di distruggere il regno che aveva costruito qui non sappiamo bene chi sia il bene e chi sia il male o se semplicemente sono tutti e due il male quindi il re del fuoco ragazzi è stato intrappolato cosa ci fa capire ragazzi che è successo qualche cosa al re del fuoco ce lo fa capire questa immagine che non è altro che la sala del trono tra virgolette che troviamo sotto al castello come vedete ragazzi c'è una sedia che è ribaltata l'unica sedia che è ribaltata e vi faccio vedere con questi due segnalini che la sedia ribaltata segnalino giallo è esattamente la sedia dedicata al fuoco c'è il simbolo del fuoco mentre la sedia rossa ragazzi ha il simbolo del ghiaccio che è anche la sedia la più importante perché quella dietro al camino ma nei file di gioco ragazzi c'è una texture che è stata ritrovata che sembra essere qualcosa riguardante un prigioniero il logo sulla texture fra poco ve la faccio vedere che il corpo del prigioniero è lo stesso presente nell'immagine che vi ho appena fatto vedere nel segnalino giallo ed è il simbolo di una fiamma la texture ragazzi è questa incredibile come vedete il logo raffigurato al centro è esattamente uguale a quello che c'è sulla tavola e il ghiaccio ovviamente di solito ragazzi si scioglie quando diventa caldo quando è che ci vuole uno scienziato il prigioniero che c'è nel castello in questo castello che sarebbe il re del fuoco sta sciogliendo il ghiaccio intorno a tutto il castello sin dall'inizio della season 7 insomma il castello era in un enorme blocco di ghiaccio e lentamente si sta sciogliendo ma se guardiamo in realtà non la potete vedere e vi faccio vedere un'immagine incredibile adesso se guardiamo la parte che ancora manca è da sciogliersi si può presumere che all'interno ci sia un prigioniero guardate questa è un'immagine incredibile ragazzi siamo proprio sotto sotto del nella parte del castello dove ancora non è possibile accedere è un'immagine particolarissima veramente ci ho messo un fottio a trovarla ragazzi e quella massa di ghiaccio che c'è dovrebbe essere il l'ultimo baluardo di prigionia del re del fuoco ragazzi che appunto sta sciogliendo tutto intorno a sé inoltre ragazzi la mappa di fortnite ha un enorme deserto che abbiamo già visto da un paio di season a questa parte e potrebbe anche essere il deserto il fattore che sta lentamente lentamente portando allo scioglimento della neve ovviamente il deserto lo conosciamo tutti il re del ghiaccio allora ragazzi creerà una grande tempesta di ghiaccio che appunto quella che sta che è annunciata nelle televisioni di tutte le case e utilizzerà un frammento di cubo che gli ha portato aim e lo vedremo adesso ve lo faccio vedere ragazzi nella schermata di caricamento della settimana numero 9 della stagione numero 6 per riportare i mostri del cubo in forma ghiacciata questa ragazzi è la schermata di caricamento della settimana e come vedete c'è aim nascosto che probabilmente riesce a rubare un frammento di cubo e il cubo di cui sto parlando è ovviamente quello presente nelle mani del re del ghiaccio dell'ice king intrappolato nella sfera di ghiaccio sopra a picco polare questa volta però ragazzi i mostri saranno molto più forti dei precedenti in quanto si presume che il re del ghiaccio sa che gli occupanti della mappa quindi noi giocatori stavamo già lottando per sconfiggere il cubo ve li avevo già fatti vedere i mostri di ghiaccio trovati nei file di gioco ragazzi sono questi e probabilmente arriveranno prestissimo cercherà quindi il re di ghiaccio di ricoprire tutta l'isola con il ghiaccio in modo che il re del fuoco non potrà liberarsi mai più ed abbiamo già avuto un assaggio di tutta l'isola di fortnite ricoperta dal ghiaccio nell'evento di dicembre non nell'evento nella giornata del 25 dicembre a natale dove per un'unica giornata tutta la mappa fu ricoperta dal ghiaccio ma andiamo avanti ragazzi e vi voglio parlare un secondo per togliere un pochettino la tensione di un paio di leaks che ho scoperto nei file di gioco il primo è un consumabile ragazzi un pupazzo di neve probabilmente farà parte delle sfide che arriveranno con il grandissimo evento della sfera di ghiaccio che probabilmente porterà con sé anche il finale di stagione della settimana numero 7 non sappiamo assolutamente quale sarà la funzionalità del pupazzo di neve e voglio mostrarvi in chiusura questa immagine incredibile ragazzi questa è davvero incredibile non so neanche chi sia l'autore perché l'ho trovata e il nome era addirittura offuscato questa ragazzi è un'immagine relativa al castello completamente sciolto e probabilmente senza più il prigioniero al centro come vedete ci sono delle catene spezzate e lì sopra è dove ci sarebbe dovuto essere il prigioniero questa ragazzi è un'immagine davvero da paura che merita sicuramente il vostro like beh ragazzi io con questa immagine vi voglio ringraziare per avere guardato questo video condividetelo perché secondo me merita davvero tantissimo spero che vi sia piaciuto vi mando un abbraccio grande un saluto noi ci vediamo presto ciao e non parte mai l'altro ma perché